Ansa, Genova, 21-8, fuori dal campo per me i giocatori possono fare quello che vogliono, hanno totale libertà di espressione. Quando si allenano invece devono dare sempre il massimo. Ivan Juric risponde così ai media argentini che lo hanno accusato di avere emarginato Ricciardo Centurion per alcuni video che il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, in orari notturni e raccontando momenti di nostalgia. Juric ha poi lasciato aperta la porta ad un giocatore finito comunque ai margini, e in campo sino ad ora solo in due spezzoni con Lazio e Juve. Se ritengo che un giocatore possa dare contributi non escludo nessuno. L'importante è che quando arriva l'occasione ogni giocatore si faccia trovare pronto. E la mia storia qui al Genova, dimostra che ci sono occasioni per tutti. Io non escludo nessuno, compreso Ricciardo che si allena regolarmente con la squadra.